Noi finita la partita di Coppa Italia, vinta la finale, passato il casino della gente che doveva spollare, andare allo stadio, buonanotte, un po' di situazioni particolari sono create tra le varie tifoserie, noi dopo aver festeggiato in qualche locale così, noi siamo trovati alle 5 e mezzo della mattina in Piazza dei Signori a fare un torellino con un pallone bucato che c'era in giro, perché non c'era nessuno, eravamo solo noi, eravamo ancora, eravamo solo noi proprio tirati a luci, eravamo un pochettino così, un po' brillini, però ci siamo divertiti anche in quel momento, quindi ti fa capire quanto eravamo così portati allo stare insieme.